Ambasciatore Massolo, autorità, gentili ospiti, intervengo con piacere, anche se con un messaggio registrato, a questa edizione dei Dialoghi Mediterranei. Ringrazio gli organizzatori per la preziosa opportunità di portare il pensiero della difesa italiana in questo autorevole consesso di dialogo e di confronto sui nuovi trend della sicurezza e sul futuro dell'industria della difesa. Rivolgo innanzitutto un particolare ringraziamento a lei, Presidente di questo panel, e un cordiale saluto agli altri relatori e a tutti coloro che seguono questo importante dibattito. Viviamo certamente una stagione geopolitica di rilevanti mutamenti, i cui effetti si intersecano nell'area di principale interesse nazionale, cioè il Mediterraneo allargato. Mediterraneo che è punto di incontro e di scontro, contesto di diffusa instabilità e imprevedibilità, connotato da una complessità sempre crescente, una complessità alla quale contribuisce alla postura sempre più assertiva, assunta da importanti attori internazionali e da ultimo purtroppo lo shock sistemico della pandemia da Covid-19 che anche il nostro Paese sta affrontando. La crisi in Libia, in Siria, le contese marittime nel Mediterraneo orientale, l'accesso alle rotte commerciali, lo sfruttamento delle risorse energetiche sono solo alcuni dei focolai di instabilità con cui ci confrontiamo. Sono la conseguenza di un decennio di crisi, di conflitti e di radicali trasformazioni dei rapporti tra gli attori internazionali, siano essi stati o di organizzazioni, che l'emergenza pandemica ha accelerato e accentuato anche nelle conseguenze. In questo scenario assistiamo al progressivo crescendo di rinnovata competizione militare tra gli Stati, che si esprime con caratteristiche tecnologiche molto evolute, in dimensioni innovative, soprattutto nei nuovi domini, quello spaziale e quello cibernetico, così come in contesti più tradizionali. E penso qui all'assertività di alcuni attori proiettata sui mari internazionali. Un contesto complesso, un contesto multiforme, in cui registriamo l'accesso sulla scena globale di nuovi attori, attori capaci di influenzare gli equilibri internazionali anche mediante la fondamentale dimensione industriale della politica estera e di difesa. A queste crescenti sfide, alle crescenti sfide all'ordine geopolitico globale, si è oggi affiancato, come dicevo, la pandemia da Covid-19. Un test alla resilienza e alla capacità di risposta nazionale, per molti aspetti anche più severo di molti scenari di crisi e di conflitti armati. Un'emergenza, vorrei dirlo, che ha dimostrato il valore aggiunto che la difesa può esprimere, in piena sinergia con le altre istituzioni, ben al di là della dimensione militare e del compito istituzionale della difesa dello Stato. Ciò è stato possibile grazie alle capacità di cui le forze armate devono disporre per assolvere la loro missione primaria, che si sono confermate non solo funzionali, ma essenziali per esprimere prontezza e reattività nella risposta alla crisi sanitaria. Una crisi i cui drammatici risvolti propongono sfide, che hanno molte comunanze con quelle prettamente militari e che richiedono rapidità, efficacia, prontezza e avanguardia tecnologica per affrontarle al meglio. È quindi evidente la necessità di rafforzare la capacità dell'apparato statale di resistere e reagire alle crisi, investendo nei settori della sicurezza e della difesa, attraverso una visione che sia davvero di lungo periodo dell'intero sistema paese. Una visione questa che non può prescindere da due aspetti fondamentali. Da un lato il rilancio del dibattito politico sulla difesa e sul suo ruolo, quanto mai urgente. Dall'altro un comparto industriale motivato e capace di confrontarsi insieme alle forze armate con le sfide emergenti. Anche in quest'ottica ho da tempo instaurato una dialettica istituzionale che ha l'ambizione di provare ad allargare la percezione della difesa per far pienamente comprendere gli italiani come i finanziamenti della difesa non siano un costo da sostenere, sottratto settori percepiti come socialmente più utili. Bensì un investimento in sicurezza, in libertà, in sovranità, in prosperità economica. Perché l'industria della difesa e della sicurezza è incubatore di ricerca, è sviluppo, è innovazione tecnologica, in grado di coniugare essenziali aspetti di sicurezza internazionale con una dimensione industriale che rappresenta un moltiplicatore, oltre che un catalizzatore degli investimenti. Un fattore abilitante e trainante dalle prospettive di rilancio e crescita dell'economia nazionale e dell'economia mondiale, soprattutto in momenti di crisi come quello che stiamo vivendo in questo momento. All'industria della difesa, l'ho anche espresso di recente alle commissioni parlamentari competenti, è legata una parte importante della sovranità nazionale e del nostro futuro di appartenenza alla cerchia dei paesi tecnologicamente più avanzati. Al contempo, l'industria della difesa deve sapersi integrare attivamente e consapevolmente in una visione prospettica del sistema paese. Come può avvenire? Io credo attraverso la competitività, l'innovazione, l'investimento in ricerca e sviluppo, la capacità di garantire quel contenuto di eccellenza tecnologica di cui lo strumento militare deve poter disporre, in modo che l'Italia, in modo che il nostro paese non debba dipendere da tecnologie e da prodotti esteri e possa presentarsi, sì, come un partner strategico nell'ambito delle cooperazioni, siano esse bilaterali e multilaterali e con un ruolo da protagonista nei principali programmi di investimento internazionali. Per affrontare le sfide di oggi e di domani, infatti, dovremo saper promuovere e sviluppare sinergie internazionali sul piano politico e sul piano industriale e riaffermare il valore della partnership politico-militare-industriale come acceleratore di sviluppo e di stabilità. Quindi la prospettiva di lungo termine della difesa non può prescindere da un ruolo attivo e convinto nello sviluppo delle capacità militari comuni in ambito dell'Unione Europea, anche per cogliere le sinergie e le opportunità offerte dagli strumenti introdotti recentemente, come la cooperazione strutturata, la PESCO e i relativi strumenti di finanziamento, le IDP e le DF. In questo senso io credo debba essere interpretata l'iniziativa del maggio scorso, quando ho contribuito, con le mie omologhe francese, spagnole e tedesca, a delineare le linee di sviluppo della difesa europea. Il mio di Castero intende promuovere con convinzione la crescente integrazione di risorse e capacità tra Stati membri, con l'obiettivo di lungo termine di conseguire una sostenibile autonomia strategica, sia in termini di capacità di intervento che sul piano delle tecnologie e delle capacità industriali. Chiaramente, in piena sinergia e complementarietà con la Nato, poiché, e tengo a sottolinearlo anche alla luce del dibattito di questi ultimi mesi, l'azione promotrice dell'Italia verso lo sviluppo e l'acquisizione di capacità militari europee deve essere assolutamente interpretata come naturale e coerente azione di rafforzamento del pilastro europeo dell'Alleanza Atlantica, a conferma che il rapporto transatlantico è indissolubile. Quindi, autonomia strategica, nell'ottica di burden sharing, di saper contribuire a rafforzare la cooperazione tra UE e Nato, e non di un disimpegno della cornice di sicurezza collettiva del rapporto transatlantico. Analogamente, anche l'industria nazionale della difesa deve perseguire le partnership internazionali che le consentono di posizionarsi coerentemente con le esigenze e le ambizioni del nostro Paese. Avanguardia, eccellenza, competitività sono elementi necessari per continuare a perseguire la partecipazione italiana nei programmi più avanzati in ambito internazionale. Io credo che l'industria italiana della difesa sia sicuramente all'altezza della sfida. Per l'eccellenza dei propri top player, a cui si affianca con uguale rilevanza strategica l'articolata filiera produttiva delle nostre piccole e medie imprese nazionali. Il Governo, e in particolare la difesa, è determinato a fare la propria parte, assicurando il più ampio supporto istituzionale nelle imprese nazionali, specialmente nelle prospettive di proiezione internazionale. La difesa e il relativo al settore industriale costituiscono quindi, secondo me, un unitario, sinergico strumento di competenze e di capacità per il sistema Paese, in grado di assicurare la sicurezza e a crescere nella resilienza, ma anche di contribuire e dare impulso alla indispensabile azione di rilancio economico. Come ho già indicato lo scorso anno, nelle mie linee programmatiche, intendo continuare a perseguire questo processo attraverso alcuni elementi chiave. La riqualificazione della spesa, la certezza delle risorse finanziarie, la capacità di realizzare i programmi e di supportare l'export in un trend di crescita graduale degli investimenti. Un importante risultato in questa direzione, io credo, sia rappresentato dallo schema della legge di bilancio, attualmente all'esame del Parlamento, che prevede nuovi strumenti pluriannali a supporto degli investimenti nel settore difesa e aerospazio. Un fondo pluriannale, a partire dal 2021, di 12,3 miliardi di euro, che consentirà di dare stabilità e profondità agli stanziamenti di cui un'industria ha bisogno, per pianificare investimenti concreti e duraturi in innovazione, occupazione, cooperazione e competitività globale. Mi auguro che il Parlamento confermi le indicazioni che il Governo ha dato e le responsabilità che ha voluto assumere nello schema delle leggi di bilancio che ha trasmesso alle Camere. Nell'ottica, infine, di definire e strutturare gli obiettivi specifici della difesa in un più ampio approccio complessivo nazionale, ho recentemente rivitalizzato anche il processo per lo sviluppo di una strategia industriale e tecnologica della difesa che dia slancio e concretezza alla collaborazione tra difesa, gli altri di Casteri, l'università e l'industria di settore. Con questo indirizzo intendo orientare il percorso con cui la difesa perseguirà nel soddisfacimento delle esigenze operative di uno strumento militare la propria azione di supporto dell'industria nazionale, includendovi le piccole e medie imprese delle relative filiere, per consolidare, per accrescere la competitività del know-how italiano nel mondo. A questo fine ritengo anche prioritario un efficace piano di supporto all'export con la compiuta implementazione dello strumento del G2G che vedrà una prima applicazione nell'ambito della cooperazione con l'Austria nel settore elicotteristico. La recente lettera di intenti che ho sottoscritto con la mia omologa austriaca vuole costituire il primo significativo esempio delle potenzialità di questo strumento di cui disponiamo. Nell'avviarmi alla conclusione ritengo che già oggi sia comunque possibile affermare come le istituzioni e in particolare la difesa stiano lavorando in maniera sinergica e proattiva sul fronte internazionale a supporto dell'industria della difesa che deve poter continuare a mantenere e ad accrescere la propria rilevanza tecnologica e commerciale. Tutto questo si può declinare in un continuo impegno alla più ampia condivisione degli sforzi per affrontare e vincere congiuntamente le sfide globali anche tecnologiche che si prospettano innanzi a noi contribuendo al rafforzamento dell'Italia dell'Unione Europea e dell'Alleanza Atlantica in una prospettiva di resilienza e di capacità di essere tecnologicamente all'avanguardia sempre in grado di confrontarsi con le sfide e le minacce emergenti. Per questo credo che l'incontro odierno sia un'occasione e un'opportunità molto utile e propizia e per questo vi ringrazio per l'attenzione ed auguro a tutti voi un buon proseguimento dei lavori. Grazie a tutti i nostri spettatori